musica 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 va bene proseguiamo eh non so si agitano questi devo andare giù non c'è niente ecco appunto 24 ottobre 1994 la mia pazienza è stata premiata finalmente ho i miei luogotenenti i tutori dell'ordine che ho imposto le tempeste hanno portato gli uomini che mi servivano per formare la confraternita dei solari tutto muscoli poco cervello erano deboli vulnerabili spezzati dalla furia delle tempeste io li ho aiutati a rialzarsi ora sono al mio servizio al servizio della regina del sole lei mi guida mi ha sempre indicato la via non posso negare ciò che ho visto e presto nemmeno loro potranno lei è ovunque su quest'isola tuttavia la confraternita deve crescere troveremo nuove reclute imporrò delle leggi una sorta di codice di condotta e li metterò a costruire per la regina del sole mentre io cercherò la chiave mattia saranno i suoi seguaci in un vero e proprio occulto così era libero di giustificare violenza e corruzione morale insomma insomma chissà che visioni che ha questo qua si vede veramente il mico e non se ne possono andare ok eh aspetta olè no no non l'ho preso uno si dai aspetta un attimo però perchè c'è sta roba qui è un attimo vedi che sto pensando non so aspetta di qua e vedi qua c'è qualcosa scusa non si rompe no infatti non si rompe ma non capisco perchè eh boh vabbè andiamo qua dobbiamo salvare gli altri eh ho capito ah ecco perchè ok guarda no non l'ho preso ciao ciao stavolta oddio la mad la madonna si aspetta ma guarda che si ripara dietro oh non so cosa ti ho rotto le balle però eh ok ah è la sirena ok ti dava fastidio eh oh oh e basta suonare dai fastidi ok oh guarda anche loro aspetta aspetta io me ne vado questi si colpiscono da soli aspetta aspetta ok ok oh ma basta suonare oh ma basta suonare via che male mi prendono un po' di striscio oh 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 carichiamo oh niente gli piace suonare la sirena eh vi devo dire ma è un fastidio ok ok quello salta in aria mi sa no no ecco beccati questo no che rinforzi scappano ah scappano clara sei viva per miracolo e gli altri ancora prigionieri ma so dove li tengono sali quassù e andremo a salvarvi non posso salire da qui ah merda ho una qualche diavoleria per spostare i carichi magari puoi usarla per arrivare dall'altra parte va bene sto arrivando mi ha gentilmente aperto la strada quello la ok aspetta ecco andiamo qua eh visto che non avrei potuto usare la corda eh minizioni aspetta qui sto dopo guarda guarda testi qua che suonava una sirena che fastidio guarda sto casino allora un attimo da qui aspetta vado qui ah vado di qua ok andiamo su mamma mia c'è una baraccopoli proprio eh ma vada lì c'è un baule non so se possiamo scendere da qua eh adesso vediamo ok qui c'è oddio una funeria ah qua si sale aspetta aspetta un attimo madonna qua si scende però posso posso darmi la spinta no eh aspetta ok giù di qua è troppo alto secondo me però vediamo se facciamo così ok e là c'è un bel baule ok ce l'abbiamo fatta ok componente abbiamo trovato ottimo ok qua adesso risaliamo aspetta ecco ok ok vai saliamo qua eh per risalire però eh no forse però qua scendendo dove andiamo a finire vuol dire vabbè intanto abbiamo trovato un tesoro nel giappone feudale gli abiti maschili erano sprovvisti di tasche gli inro erano piccoli contenitori di effetti personali una sorta di portafogli antelitteram ah penso a te eh già vabbè ok ah non vorrei mi sa che devo rifarmi la strada forse vediamo e mi sa di si eh ciò rifacciamo si perché abbiamo trovato qualcosa di ok dovevo andare giù da qua eh visto dopo ok adesso sentiamo qua qua gridavano dove sono dove sono? orca posti solo in due sembra di bene si invece eccoli ok ok maledetto hanno fatto il tema oh guarda te che non posso lanciare granate anch'io dai che salti in aria no non stavi lanciando qualcosa no posto chiamate qualcuno oh madonna beh guarda che ricarico sicuro oh oh tomba segreta vicina si aspetta ok vabbè fucile a pompa a distanza ravvicinata alla nostra salvezza noi dobbiamo andare di qua mi sa che è di qua eh andiamo ok ok c'è un bel baule bella cassa anzi ok ok qua ok no la tomba lì c'è lì c'è un fuoco aspetta eh si qua acqua ok ok ci sediamo vita zero materiali ne abbiamo parecchi qua non c'è nulla abbiamo fucile a pompa manca questo e lo prendiamo così è potenziato per ora al massimo questo 45% il nostro fucile automatico non è a posto ma direi che siamo a posto ah qua forse fuoco rapido dai fuoco rapido va così anche la pistola è potenziata tutta per il momento e basta siamo messi molto bene andiamo eh ok deve essere per forza di qua secondo me eh si oh e non si spegne la torcia strano adesso è overpower anche la torcia mamma mia che percorso per entrare questa però non me la ricordo eh secondo me l'ho saltata ok non me la ricordo un'ufficina improvvisata i solari si sono impossessati di tutti i luoghi più antichi dell'isola eh si aspetta qua segna oddio ste robe cosa sono lì si può agganciare andiamo ah aspetta per rompere guarda sa che è per rompere quello e sti cosi no oddio però questo si può bruciare guarda ok ok serve a serve a... no serve a niente mi sa ehm la ci arriviamo la molla sta roba no dice una scala aspetta non è che questi vanno messi qua vediamo oh non lo so ma poi cosa facciamo? li lanciamo? no abbiamo messi tre ce ne sono altri ah guarda ce n'è uno lì però come ci arriviamo lì? eh no qua non ci fa salire eh con la piccozza qui ci arriveremo ci arriveremo ci arriveremo però non so aspetta togli la fiacola piccola no no non ci arriviamo oddio ma era alzato anche prima no eh cosa guarda ah per fare così eh per saltare ho capi ho capito penso eh solo che non sta abbastanza giù perchè sono solo tre eh no manca quello ma non si distrugge questa cosa no eh aspetta ah qua non ho riposato intanto e noi riposiamo ok così sblocchiamo il campo in un certo senso aspetta cosa fa? no voglio di raccogli ok ma ci sarà no domani posso sparare guarda sono serbatoi no sono pesi sono solo pesi però si sposta eh guarda un pelino andiamo andiamo olè boh andiamo se lo metto qui no è vero che se salto mollo lo lasciamo qua e no vedi però cosa serve metterli qua scusa eh cos'è? perchè se questo va giù lo stesso ah no ok adesso ci ha messo di più aspetta un attimo e va che ci arriviamo eh secondo me aspetta ok infatti non so se il metodo che abbiamo usato per prendere quel peso sia giusto ma vabbè va bene uguale oh ok ok qui tutto è costruito sopra antiche rovine perfetto camera giusto completata due su tre componenti pistola paracopoli paracopoli va bene e mi infilo qua così oppla ok adesso torniamo indietro potremmo farlo anche meno eh è meno lungo sto percorso per per uscire e entrare da sta tomba poi me li immagino i scagnozzi lì a portare roba eh armamentari o vario insomma robe così su questa strada tutta stretta insomma andiamo forse abbiamo tagliato un attimo ok 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 aspetta di qua ok si sto uscendo perfetto allora adesso dobbiamo andare abbiamo detto qua di qua di qua di qua eh ma non mi sembra il punto giusto aspetta aspetta dobbiamo prendere guarda la funivia via ok ok aspetta ci aggrappiamo ci aggrappiamo facciamo il giro ok grimm ci sei è una trappola dacci dentro valli fuori Dove sono? Aspetta E qui non ho coperture però Aspetta No Ok preso No C'è qualcun altro Aspetta Vediamo di bruciare Ok le loro coperture va Questo che io non ne ho Guarda To vai giù Ok Preso Aia Ah non l'ho preso Era troppo distante Aia Oddio Ok Ok va facciamo Saltare in aria un po' di cose Un altro no Dove sei? Aspetta No Borca vacca non l'ho preso Se no Faceva saltare in aria da solo E dai ancora Dai Dai Ma come? Ma che cavolo Ah è morto Ok 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 Ma questi arrivano Aspetta Dove l'ho preso? Non è vero? Ok Dai Saltare in aria Bravo È scappato? Bravo Armi a terra Ho il vecchio crepa No Lara Non farlo Ok 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 Sono cresciuto a Glasgow Amico Ora Buttale di sotto È morto Mi sa No Grim Eh sì La pagheranno cara Ah sicuro Siediamo Che dobbiamo andare a palazzo Eh Ok Ci siamo Ci siamo Stiamo vicini al palazzo Aspetta Raccogliere Questo Sta bruciando Continuamente Sì Dunque Spendo Direzione Ah giusto Di lì E direi di qua Qui si torna indietro Qui c'è del muro Scalabile Non è che si rompe la corda Ah ecco appunto Appunto Sì Sì Ah perché Delle volte che c'è Sai Mamma mia Oh madonna Oh Oh bene Eh infatti Un aiuto Ogni tanto Rot Rot Eccomi Grim È morto L'avevano L'avevano catturato Per farmi arrendere Ma lui Sai com'era Ah Grim Vecchio Vecchio cociuto Mi dispiace Rot No Fatti coraggio Lara Non abbatterti Quando sarà tutto finito Prenderemo in suo onore Proseguo verso il palazzo Mi puoi coprire? Sì Ho campo libero Fino alle mura Del palazzo Ok Elicottolo di salvataggio N888RC Decollato da nave cargo Trinity Per rispondere a SOS Qui con Radarotto Dell'Endurance Mi ricevete? Lara Hai sentito? Sta arrivando un elicottero di salvataggio È fantastico Rot Sì ma Accendi un segnale Io prendo Sam e gli altri Lara Forse dovrei Non finirà come col pilota Io li ho cacciati in questo casino E io li tirerò fuori Bah Vediamo insomma Due punti abilità addirittura Aspetta Allora li spendiamo subito Allora possiamo prendere questa Attacco e schivata Schivo un attacco e conficco una freccia nella gamba Tanto non so quante volte lo farò Però prendiamolo E per schivare poi Y al momento giusto Per scordire i nemici Conficcandovi una freccia nella gamba Va bene Ah e ci abbiamo Ah quella di livello Schiva gli attacchi I nemici meno corazzati Poi colpisce la distanza La vicina per uccidere la distante Poi prendiamo anche questo Premi B per schivare E poi premi Y al momento giusto Per uccidere i nemici I primi di casco Va bene Ok E come attrezzatura Mi pare che avevamo preso Praticamente tutto ciò Che ci poteva interessare Infatti Vi ho detto che qua Questo qua è il silenziatore Non lo prendo Perché Ah ma non è il silenziatore Aspetta La migliore espulsione del gas È in fase Di fuoco Aiuto ad aiutare il contraccolpo Ah no Perché dalla figura Sembrava il silenziatore Invece no Prendiamolo Prendiamo di bocca Va bene Ho preso tutto Abbiamo preso tutto Tutto abbiamo preso Praticamente Siamo armati Fino ai denti E potenziati Fino ai denti Per ora Ok comunque Togheremo qualcos'altro Anche Il ponte è mezzo distrutto Ovviamente Doriamoci C'è qualcosa di intero Qua Attenta Lara Quel ponte Brulica di guardie Benone Consigli? Non sarà facile Ma forse puoi attraversarlo Da sotto Temevo che lo dicessi Tranquilla Non ti perderò certo di vista Vabbè Più sicuro Sotto no? Ok Aspetta Aspetta No Oddio Ah no Mi ha smetto di aver visto qualcuno Ci siamo Ok Oddio Oddio Mi hai fatto prendere un colpo Stai bene? Spero un soffio Sì sì Stiamo bene Ferma Non muoverti O ti vedranno Aspetta Vado direi Posso? Ok Sperma Aspetta Ce l'ho Che Che Mera Aspetta Aspetta Lara Via Libera Grazie per l'aiuto Adesso Siamo pari Lara Attenta Occio Mamma mia Sono precipitati Sarà morta? Non so Non vedo niente Puta Eccola 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 Devo correre Quello che faremo Mamma mia Oplano Forse che All'ultimo Pronto Vado dentro Sicura di farcela Lara? Li salverò E tornerò Con loro Lo prometto Importante Crederci Ovviamente Possiamo andare Ok Aspetta Ah no Mi sembra Sembra che aveva visto Un Piccolo Libero Equipaggio Dell'endurance Salvataggio Disperato Si Devo andare Di qua Allora vado Di qua Aspetta Si eh Ah è un Vicolo Un vicolo cieco Per l'esperienza Va bene Stanno facendo Stanno facendo Un rituale Per l'esercito dovremo liberare la nostra regina lei è prigioniera come noi se la libereremo saremo tutti liberi questa donna ha un vincolo di sangue con l'isola che sia la chiave sarà la prova del fuoco ma rivelarcelo imico tu che sei la prima e l'ultima parlaci adesso ho ucciso nostro frappello e ora usciterò te questa è per Vladimir puttana basta così Dimitri, Nicolai ora portatela qui ne ho uccisi molti a dire la resità non solo uno ma ogni creatura vivente lotta con tutte le sue forze per sopravvivere non credere che non ti capisca ragazza solo che io lotto da molto più tempo di te dobbiamo prepararci fratelli la nostra regina ci sta per parlare parlaci mi dispiace mi dispiace tanto guardami guardami ok lei lei è la prescelta presto fratelli presto fratelli saremo rigenerati portatela alla sala del trono hai finito di lottare creatura però cioè non è che ci uccidono all'istante ci danno quell'asso di tempo per reagire un po' difficile vedere il cadavere sott'acqua che bello che bel laghetto fiume fiume diciamo che lago fiume sembra di essere proprio all'inferno qui beh proprio aspetta cadavere si lo facciamo saltare eh 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 però continua a uscire aspetta eh dobbiamo passare quando non c'è ok eh ok ok andiamo qua mamma mia altro che sopravvissuti siamo qua cosa c'è questo ah ecco visto qualcosa ogni nuovo fratello riceve una mansione un ruolo tra i solari finché matias continuerà a dimostrare il suo legame spirituale con la regina del sole loro gli crederanno senza affiatare il rito di iniziazione è brutale affinché possano compiere azioni disumane le nuove reclute devono essere private della loro umanità come? buttandoli in fondo alle caverne senza cibo né acqua per giorni o intere settimane i pochi superstiti vengono poi accolti a braccia aperte nella confraternita non capisco a che tipo di potere matias abbia attinto ma non mi interessa più non ce ne andremo mai da quest'isola dimenticata da dio certi giorni ho l'impressione di essere già all'inferno e considerando le cose che abbiamo fatto forse è così è il fondamentalismo dei solari a renderli tanto pericolosi sono devoti alla regina del sole disposti a tutto per estrarre il suo dominio allora riposiamo meno male lo sa ok no non dobbiamo fare nulla qui quindi era solo per salvare e sentire eventuali diari possiamo anche proseguire quelli sporchi di sangue grazie a tutti